Bene, adesso li ho montato dentro qua, li ho fatto il foro e li ho montato una brugolina, un grano, questi piccolini, per dargli più sensibilità. Adesso praticamente quando tu tocchi il grilletto parte subito, così mi piace molto di più. Abbiamo diminuito il problema del 90%. Bene, quindi ricordarsi di sostituire questa molla qui con una più morbida e montare qui un filetto con la filiera di 3MA, ci si monta un pernino sul foro già esistente e basta per dare la possibilità, una volta che hai montato il tutto, già il primo scatto adesso non essendoci la molla non si vede molto, ma comunque c'è il primo tempo, che è questo, si vede, e poi nel momento che tu attacchi il grilletto, appena lo tocchi lui parte. Molto molto meglio. Bene, salve a tutti.